ciao a tutti ragazzi sono al mac96 perchè fa così ma al mac96 e siamo qui in un nuovo video brawl stars ragazzi allora scagare la batteria uguale allora ah uccellamano ok al spie è morto intanto allora oggi andremo a fare in sopravvivenza con colt allora ragazzi ho sboccato gli dati un po ste stecca bull boom ardino allora ma è offline poi dopo mi sa che andremo a fare dopo sto video andiamo a fare un minecraft con una mia amica si chiama marty 23 e lei non ce l'ha un canale youtube allora mi raccomando ragazzi scrivetevi e mettete il like così ah e condividete è vero dovete condividere il video ragazzi no c'è bull tim 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 lo so ok ragazzi è illegale tim 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 oh mio dio ok posso andare con lui bravo tim 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 nooo vai bull uccidilo vai bull uccidilo vai bull vai bull vai bull vai bull uccidilo male vai bull uccidilo male vai bull uccidilo male quello fare team con bull infatti ho fatto team ma poi c'è è shalom lì che ha la mia questa skin mi ha fatto una mossa grande 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 cosa facciamo 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 no andrà a vedere se adala ah davide accetta andiamo su davide è un amico metti metti sopravvivenza 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 in due ehi per un attimo capo la chest no tipo pensavo ok andiamo a fare sopravvivenza in due allora ragazzi lui è il mio amico delle elementari è il mio miglior amico praticamente lasciamo tutti i video insieme prima del canale ma ragazzi eravamo dei amici e io siamo ancora quindi allora ragazzi qui si bombardano male bravo bravo davide no 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 aiuto eh sono morto via 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 campera campera bravo 4 no vai via vai via ecco 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 oh no c'è il brawler leggendario il falco no si il falco c'è lui c'è il tizio ooooo no come ma cosa ma 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 no va bene ragazzi ok c'è un team c'è un team 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 ragazzi team 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 lo sai che vuol dire mio te team è vero no ok c'è uno speciale con questo no no hai ucciso ragazzi quarti no raga siamo i nabbi dai no cioè i metodi mettere un altro altro brawler brawler si brawler brawler non so se ho scritto bene ma ma che ma cosa è esploso hai un altro brawler oh ahhh raga ok 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 e metto anche lo smile così mi conosci smile 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 ecco dov'è è quello che si fa no ok ok andiamo è spino no è air fly never oh no mi sono andato la sciobatta ragazzi attimo ho chiamo ragazzi eh ho chiamo così davide sto a fare un video ok sto a fare un video dicevo sei matto a chiamarmi per mezzo della partita sto a fare un video ma 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 via la safe no cosa cosa ragazzi è bene ragazzi ok un attimo ragazzi allora ragazzi ho messo i miei sono in pausa perché non mi ma che bag ma che cosa è esploso no vabbè ragazzi e davide davide è in battaglia andiamo a vedere davide dai dai davide non ti inizionare dai su andiamo come bravo d'altro ragazzi dopo penso il video con mattina 23 però lo farò in minecraft questo spero allora se avete ancora la serie e bravo stars continui vedete un bel polli che c'è in su commentate iscrivetevi al canale e condividete con i boss amici ok ragazzi mi fido in voi mi fido eh mi fido di voi no vtf ma c'è questo è un buono ragazzi camper no no è scemo bravo bravo un ciopi è 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 bene ho pronta La mostra speciale Colto lui E muori Oh oh No E' colto e' fatto Ampero male Ampero male Aiuto Aiuto Come Ah stavo No Davide Accamperavi no Intelligenza Dai E facciamolo su E ti un altro Oh brawler no Metti Che ne so Bull Hai il Leon c'hai Anche te Intelligenza Un pochino No Prendi piede Bravo Bravo Ecco Metti un altro Brawler Ma E' scemo Ma che Ora fa Brawl No 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 Cuore Nob Vabbè Nob Stui Nob Perché Oddio c'è stecca Oddio c'è stecca C'è stecca C'è stecca aveva tre di vita speca meno speca meno speca meno speca meno speca meno nooo e nube ecco questo Davide vieni uff c'è Sniper mio amico delle alimentari no no vabbè è uguale anche colte qua no 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 per niente a cui fanno tutti il primo e vabbè vabbè il mondo ciao ho forti stivi e so forti so forti ho forti stivi so forti stivi so forti dai perché non li prendo neanche un pochino teo teo è un altro teo vero no duemila fa no vabbè oh è esploso il mondo qui fa duemila teo è scemo è scemo mi hai fatto a campare con i dai mamma è un zii quelle canzone degli e si dici no 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 come qual è Davide oh no vai teo devi uccidere tutti teo devi uccidere tutti vai teo guarda teo guarda teo guarda teo guarda teo vabbè vabbè ho un gettone stella oh mio dio davide davide vieni davide a e ospiniare un po' davide e fa a e è un survival solo quindi Davide perché mette il primo un survival non lo so non lo sa che è colto non lo sa il franco è forte vuoi Davide? no male eh si tutti li hanno addosso hanno fatto team ti sconci ma no hanno fatto team ma è scemo a caso no perché non perché diciamo futura chi se ne fai io fai tipo mille kill della mamma poi esplodo grazie grazie palla mia palla mia palla mia palla mia eh Gesù io fai io portere grande grande ma aveva aveva 3 di vita aveva 3 di vita lagga 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 si lagga no come mamma mia sta a a rombotto non so perché ma sta laggando tipo 300 anni lagga no no o aller perché is qui è che vieno vieno mon vieno vieno sniper come se vieno vieno dì vieno mai pervieni proprio Zeus a caso troppo troppo lol un po' che ti muto in mento no allora ragazzi oggi è tutto e ciao ragazzi